di essere qui. Allora, siamo qui per una chiacchierata con quattro protagonisti del settore orologero per affrontare altrettanti temi che in questo momento sono centrali nello sviluppo, quello che è il futuro dell'orologeria, che è il titolo del nostro talk. Quindi parleremo di sostenibilità, per lo più sostenibilità ambientale, che in questo momento interessa molto soprattutto le nuove generazioni. Parleremo di digital, tutte le nuove tecnologie che si stanno implementando per il tracciamento, per la lotta anche alle contraffazioni. Poi di crowdfunding, perché ci sono tante nuove marche, piccole realtà, che usufruendo di queste piattaforme di finanziamento stanno emergendo in questi anni. E poi infine del collezionismo che vive un momento d'oro. Senz'altro nessuno mi contraddirà su questo. Qui con me c'è Diego Tamone, con cui abbiamo voluto organizzare questo incontro, watch editor per RCS Media Group, quindi principalmente Corriere della Sera Style. Lo invito ad introdurre i nostri ospiti. Buongiorno anche da parte mia. Non rubo tempo ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Antonio Carriero, Chief Digital and Technology Officer di Breitling. Alessandro Ficcarelli, Product Director di Panerai. Giovanni Varesi, Head of Antiquorum Milano. E Nicola Callegaro, co-founder di Econoitra. Allora, Alessandro partirei subito da te. Come Dodi ha anticipato, il tema è quello della sostenibilità. Sostenibilità che è un topic molto hot nel momento, tanti brand chiaramente ognuno nel suo modo ci si sono impegnati, chi con iniziative nobili di salvaguardia, chi con l'utilizzo di metalli a provenienza certificata, chi magari semplicemente con l'utilizzo di cinturini in plastica riciclata. Voi quest'anno, voi che è un commitment chiaramente di questo genere, lo avete sempre avuto con il vostro label Panerai Ecologico, quest'anno avete voluto fare uno step ulteriore che ha preso forma sul fronte del prodotto. Con prima di tutto un concept watch davvero rivoluzionario, il Submersible e l'Hub ID, partirei proprio da questo, cercando di capire con te appunto il contenuto di questo pezzo d'eccezione. Innanzitutto ti ringrazio, ringrazio te Dodi per avermi invitato a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. Il tema della sostenibilità e dell'utilizzo di materiali riciclati anche nel mondo del lusso. Noi siamo partiti con questo progetto Panerai Ecologico, di cui oggi parlerò soprattutto dell'orologio nello specifico, ma ecologico è un concetto trasversale a 360 gradi nell'organizzazione. Quindi tutte le 720 persone che fanno parte dell'organizzazione Panerai nel mondo, sono richieste a tutti di pensare in maniera ecologica. Quindi non è solo un discorso di prodotto, ma abbiamo delle attività all'interno dell'organizzazione che ci fanno riflettere sull'utilizzo sempre più del concetto green. Parlavi delle nuove generazioni, ma al giorno d'oggi siamo bombardati di messaggi sull'importanza di fare qualcosa per il nostro ambiente. Il clima, il mondo sta cambiando, il nostro brand ambassador, Mike Horn, da oltre 20 anni, lui esploratore dell'estremo, ci mette in guardia nelle sue esplorazioni per esempio nel Polo Nord, di come si è cambiato l'ambiente, ci fa vedere le fotografie 20 anni fa, 10 anni fa, quelle ancora le ultime degli ultimi due anni e vediamo come si sono sciolti i ghiacciai. Quindi sono anni che dice dobbiamo fare qualcosa per l'ambiente, che non è solo il discorso di manifattura green, perché poi la nostra manifattura è veramente green e cerchiamo di recuperare l'acqua delle falde acquifere, recuperare l'energia elettrica, cerchiamo di stampare meno possibile, adesso i libretti di istruzione sono solo disponibili in formato digitale. Potrei fare la lista di tutte le attività green in azienda e per fortuna non siamo l'unico brand che si occupa di questo tipo di progetti. Però abbiamo iniziato qualche anno fa proprio con Mike Horn e questo che vediamo dietro di noi è l'orologio, è uno degli orologi che abbiamo sviluppato con Mike, partendo dall'albero motore della sua barca a Pangea e un giorno mi inviò una fotografia, lui era a Hong Kong con questa sua barca e con questo cilindro d'acciaio, per me ignorante in materia, ha detto senti ho questo shaft, cosa possiamo fare, ci possiamo fare un orologio? Inizialmente ho detto guarda perché no proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare, mandamolo in manifattura e vediamo se riusciamo a produrre qualche componente per un movimento o altro e siamo riusciti a produrre cinque tourbillon il cui acciaio è riciclato proveniente dallo shaft, quindi dall'albero motore della barca Pangea. Nel frattempo avevamo già lanciato i primi progetti con cinturini in plastica riciclata o tutte le scatole della collezione submersible in ABS riciclato, naturalmente tutto certificato e da lì tre anni fa ci siamo detti, soprattutto il nostro amministratore delegato mondo, mio capo Jean-Marc Pontreux, ci ha dato un obiettivo super sfidante, dobbiamo essere il primo brand di orologeria a lanciare un orologio 100% riciclato. Ci siamo guardati noi con i designer, i product manager, gli ingegneri della manifattura, abbiamo detto che è qualcosa di impossibile. Ci siete andati vicini, siete fermati a 98,62%. Ci siamo andati molto vicini con questo submersible eLabID che abbiamo presentato quest'anno e poi le sfide sono state difficilissime perché se avevamo già lanciato tre anni fa un orologio alla cui cassa era in titanio riciclato o il cinturino riciclato, packaging riciclato, poi la sfida principale era sul movimento. Perché comunque poi un submersible con una impermeabilità di 300 metri per rispondere ai criteri qualitativi di Panerai doveva essere comunque un orologio robusto, il movimento funzionale. Quindi alla fine abbiamo ricostruito completamente il movimento cercando di utilizzare quanto più possibile tutti i materiali riciclati. Quindi dal ponti in ecotitanio, ecotitanio che arriva dall'industria dell'aviazione. Quindi parliamo di titanio che viene recuperato dagli aerei dismessi e quindi titanio purificato che viene utilizzato sul movimento. Ho la massa oscillante invece di essere in tungsteno e in oro bianco riciclato. Tanti elementi in acciaio riciclato, i rubini, i rubini in zaffiro riciclato che poi abbiamo utilizzato anche lo zaffiro riciclato sul vetro, il quadrante in ecotitanio. Mi siete spinti a riciclare anche il Superluminova. Quello è stato impressionante perché in più è chiaro che siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, presentare l'orologio più riciclato al mondo anche grazie al supporto dei nostri partner, di ingegneri che ci hanno supportato in questa sfida. Ad esempio Tritec, che è il nostro fornitore di Superluminova, abbiamo iniziato insieme a testare e a utilizzare il Superluminova proveniente da quadranti difettosi. Quindi quadranti dove già era stato posato il Superluminova però avevano un graffio. Quindi abbiamo recuperato il Superluminova, lo ha recuperato il fornitore, il nostro partner, lo ha purificato e in più l'ha utilizzato, quindi un Superluminova riciclato, quindi tutto il materiale luminescente sul quadrante e sapete che la luminosità dei quadranti per Panerai è uno degli elementi principali o anche sulle lancette, è anch'esso riciclato. E soprattutto ha la stessa performance di un Superluminova vergine. Quindi un po' il nostro concetto è quello di utilizzare quanto più possibile quella che si parla economia circolare, materiali riciclati invece che materiali vergini e che hanno esattamente le stesse caratteristiche, lo stesso livello qualitativo, se non migliore in alcuni casi, per un orologio che è di lusso e su cui il lusso e il riciclato al giorno d'oggi non deve essere considerato un riciclato in una mentalità antica e un po' spazzatura. Al giorno d'oggi il riciclato è... L'italiano non si presta particolarmente. Non aiuta. Non aiuta. Quando invece, parlavi prima di nuove generazioni, le nuove generazioni, la prima domanda che ci hanno posto, perché lo avete fatto solo ora? Quindi le nuove generazioni la vedono in un'altra ottica rispetto comunque a chi vede il riciclato come qualcosa di spazzatura, anche perché, ripeto, è tutto purificato e di altissima qualità. Ma forse sarebbe più corretto dire rigenerato? Esattamente, rigenerato. Poi c'è tanta terminologia, si passa anche nell'inglese da recycle, upcycled. Poi iniziamo... buongiorno. Iniziamo con sinonimi. Prego. Per quanto riguarda i metalli, perché parlavi del superluminova, ma per quanto riguarda i metalli, c'è un problema di caratteristiche fisiche? Cioè c'è uno scarto quindi maggiore? C'è un problema di test prima di utilizzarli o no? Assolutamente c'è un problema di test, quello su tutti i materiali, dai metalli alle sostanze come il superluminova. Anzi, credo che la parte dei test oggi sia ancora superiore sul riciclato rispetto al vergine. Quindi questo innanzitutto. E poi, ad esempio, anche con l'acciaio riciclato, il materiale è addirittura più puro. E quindi anche a livello di machining, cioè nel senso che i macchinari che vengono utilizzati c'è il rischio anche di rovinare più macchine per usura, perché il materiale è più puro. Quindi questo è un po' il discorso. E in più, è chiaro che questo è un progetto visionario, tre anni di sviluppo condivisi con i nostri partner. Una cosa che volevo sottolineare è che poi per la prima volta nel mondo dell'orlogeria è un mix di tante prime assoluto nel mondo dell'orlogeria, ma abbiamo deciso volutamente di non depositare alcun brevetto per aprire l'ecosistema anche ad altri brand. Quindi i nostri tre anni di sviluppo con i partner per noi sono condivisi con tutti, perché sappiamo che sviluppare qualcosa del genere per l'ambiente, per l'oceano, per il pianeta e farlo da soli con qualche centinaia di pezzi in realtà non serve a nulla. Avete anche comunicato tutti i vostri partner, quindi la provenienza di ogni componente, di ogni materiale è certificata, è indicato il fornitore online, sicuramente si può vedere immagini. Ma quando si acquista l'orologio si sa da dove è promiale ogni componente. Assolutamente, i nostri fornitori e partner sono stati contattati anche da altri brand e questo ci fa molto piacere per partire un progetto insieme. Io ad esempio sono convinto che sui metalli e sull'utilizzo sempre di più di metalli riciclati tutti i brand dovremmo andare in questa direzione. Faccio l'esempio dell'acciaio, perché poi oltre al subi lab idea abbiamo presentato anche il lumino, il restill, l'acciaio riciclato, cioè l'acciaio oggi che viene utilizzato nell'orloggeria, in media il 50% dell'acciaio è riciclato, quindi non è che non è riciclato. Quello che noi abbiamo voluto fare è spingerci al massimo, abbiamo detto ok qual è la massima percentuale a cui possiamo raggiungere, quindi il nostro obiettivo era arrivare al 100% anche lì sull'acciaio riciclato. E' chiaro che poi deve superare determinati livelli qualitativi e standard per rispettare i criteri qualitativi di Paneraio, di un brand del lusso. Banalmente la durezza, perché tanto tutti gli acciai che vengono utilizzati vengono prima testati per la durezza. Assolutamente, assolutamente la durezza è uno degli esempi. E quindi siamo riusciti ad arrivare fino al 98% del materiale riciclato e il restante 2%, non l'abbiamo fatto solamente perché... E qui ti avrai chiesto. Noi vogliamo sapere cos'è questo 2%. Esatto. Sta lì anche perché a volte non lo puoi, a volte non ti conviene riciclare, perché non sempre conviene riciclare. Se riciclare ti porta ad emettere... Bravo, hai colto benissimo il punto, perché il discorso non era solamente un discorso di record, non siamo qui per fare Guinness dei primati. Siccome il concetto principale è essere green, riciclato e riciclabile, se poi io per sviluppare dei componenti, che sono soprattutto componenti di movimento, parlo di guarnizioni, o parlo di bilanciere, o la molle della corona, o dei bariletti, dove comunque lo sviluppo è non solo lungo, costoso, ma inquinante. Cioè il nostro obiettivo era lavorare green, anche a livello di manifattura, quindi evitare quel 2% ci permette di avere un orologio che funziona al 100%, ma che comunque non inquini, perché il discorso è riciclato, ma anche riciclabile nel futuro. Quindi non è un orologio indipendente da Nivarux, questo è... No, no, assolutamente... Forge Group rimantiene... Ma assolutamente no, ripeto, questo è un orologio, ma ancora una volta è dichiarato proprio nelle nostre presentazioni, sul nostro sito web, abbiamo lavorato con oltre 10 partner esterni, più 25 ingegneri tra Panerai, il gruppo, quindi ci siamo avvalsi comunque dell'esperienza di esperti, perché è un risultato talmente straordinario che non avremmo potuto farcela da sola, soprattutto con questi tempi limitati. Tra l'altro i cinturini sono italiani perché li producemo la Morellato. Sì, devo dire che con i cinturini già avevamo lanciato un progetto, anche qui non c'è nulla in trasparenza, lavoriamo sia con Archimedia che con Morellato, che sono entrambi italiani, come fornitori su questi cinturini riciclati e sono fili di plastica riciclata e poi alla fine sono orologi i cui cinturini sembrano in tessuto. Se ricordo i primi prototipi che abbiamo ricevuto in plastica riciclata di cinturini 5-6 anni fa erano veramente talmente rigidi, adesso invece sono comodissimi, soft e nessuno sembra del tessuto, non sembrano affatto riciclati. Dicevi prima che comunque l'industria orologiera già utilizza acciaio riciclato, ma non nella percentuale degli steel, se non sbaglio, ma sarebbe antieconomico perché per arrivare comunque diciamo sulle produzioni più grandi ad avere un acciaio così riciclato a questa percentuale? Ma in realtà noi abbiamo lavorato con un fornitore, Donzebom, che fa parte del gruppo, ma lavoriamo anche con altri fornitori, anche in questo caso in trasparenza, quando abbiamo presentato il progetto anche ai nostri fornitori, un altro fornitore, Lang, ha detto ok, anche io voglio utilizzare questo acciaio riciclato. Poi è un discorso di economia di scala, più li utilizziamo, ormai che nel momento in cui abbiamo passato la fase di test e sappiamo le criticità del materiale, può essere utilizzato in larga scala e se viene utilizzato in larga scala inizia a costare di meno, adesso costa molto di più dell'acciaio normale, ma come tutte le tecnologie, tant'è che noi ci siamo dati un obiettivo molto sfidante che nell'arco di 4 anni, nel 2025, ci siamo detti almeno il 30%, ma l'obiettivo interno è più alto, dell'assortimento deve essere riciclato. Quindi l'idea anche come responsabile dello sviluppo prodotto internazionale di Panerai, l'obiettivo che ci siamo dati è passare nell'arco di 3-4 anni tutto l'assortimento ad acciaio normale e ad acciaio riciclato. Poi è chiaro, è un processo lungo, questo non lo possiamo negare, ma è quello che vogliamo raggiungere. L'orloggeria è in ritardo rispetto a tante altre industrie, se solo pensiamo all'automobile, dieci anni fa le auto elettriche o ibride sembravano uno scherzo, adesso sono un po' dappertutto, ma anche io utilizzo un'auto ibrida, questo anche per il discorso di concetto e di immagine sostenibile e ecologica all'interno dell'azienda come messaggio. E quindi noi dichiareremo per ogni orologio la percentuale di riciclata e di riciclabilità per ogni orologio, così come fanno le auto per le emissioni di CO2, perché il cliente deve sapere se quell'orologio è composto da 0, 10, 15, 20%, in questi casi siamo arrivati al 98,62% con il Sub-Ila Baidi, oltre il 58% con il Lumino Risteel, che ha una cassa in acciaio riciclato, quadrante acciaio riciclato e cinturino in plastica riciclata e nel futuro anche nelle prossime collezioni cercheremo sempre di più di presentare orologi che presentano queste caratteristiche. Bene, io vorrei passare a un altro tipo di sostenibilità, perché abbiamo qui il fondatore di una nuova marca, che è un microbrand, è con noi tra, che vi siete presentati con questo concetto di sostenibilità emozionale. Emotional durability. È un concetto che è molto semplice, ma al tempo stesso è anche molto affascinante, che io personalmente ho cominciato a maturare negli anni di studi all'Università di Architettura di Venezia, dove ho avuto modo di studiare, di analizzare e approfondire architetture e oggetti di design che avevano una caratteristica importante, e cioè quella che sapevano emozionare a distanza di molti anni, a volte anche secoli, le persone che ne venivano a contatto. Abbiamo cercato di analizzare e di capire un attimo quale fosse la base di questa emozione che trasmettevano, e abbiamo identificato in tre caratteristiche chiave, una è la temporalità del design, e cioè un design che non segue per forza le mode del momento, ma che utilizza dei canoni di equilibrio, di proporzione, che siano attemporali, che quindi riescono a trasferirsi anche attraverso varie generazioni. La seconda è la qualità dei materiali utilizzati, perché ovviamente un prodotto che parte da qualità scadente dei materiali non può o fa fatica a durare nel tempo, e al tempo stesso anche la qualità della manifattura con i quali vengono fatti e vengono prodotti. Faccio un esempio, molti di noi hanno magari nell'armadio un maglione, un vestito, un accessorio, che per qualche motivo teniamo lì a distanza di molti anni, che ogni volta lo prendiamo in mano e ci emoziona. Ci emoziona tanto da se si rovina a volerlo riparare, se anche magari non segue la moda però ci identifica, e ci emoziona ogni volta appunto in cui lo indossiamo, e lo teniamo lì e lo tramandiamo magari anche nel caso di altre persone. Questo è il nostro tipo di approccio a quella che può essere la sostenibilità, cioè fare in modo che una persona si innamori dell'oggetto e non diventi, non senta magari l'esigenza di un acquisto impulsivo della sostituzione di quell'oggetto. Per far questo appunto abbiamo cercato di puntare molto sulla qualità dei materiali, con i quali vengono composti gli orologi, ed è stata una bella sfida, che però ovviamente non abbiamo la presunzione di aver vinto o di averli già prodotti, ma abbiamo tutta la passione, l'energia e la volontà di riuscire a farlo attraverso il lavoro e l'impegno. Voi Nicola, quando siete partiti nel 2018, avete scelto di puntare sulla formula del crowdfunding, sulla piattaforma Kickstarter, se non erro. Esatto. Ci puoi raccontare come è andata, visto che in Italia per il momento non è ancora una formula molto utilizzata? Allora, il crowdfunding noi l'abbiamo scelto per due motivi principalmente. Il primo, quello ovvio, perché volevamo essere sostenibili dal punto di vista economicamente, finanziariamente dall'inizio e al tempo stesso per l'altra faccia del crowdfunding che è molto importante, cioè quella che hai in maniera istantanea una risposta dal mercato. Cioè vedi subito se la tua idea, il tuo progetto, il tuo oggetto in questo caso può essere interessante per i futuri acquirenti e quanto lo può essere interessante. C'è una visione un po' romantica del crowdfunding dove si pensa che, ah ok, che bello, vorrei fare questa cosa, faccio un prototipo, due foto, lo pubblico in internet e mi arrivano... E qualcuno ti dà i soldi, chiaro. Questa visione romantica purtroppo non è tanto reale. Non corrisponde alla realtà. La realtà corrisponde a un tanto lavoro, ma tantissimo nella fase di pre-campagna. Perché c'è una regola non scritta, ma che è assolutamente vera, l'abbiamo provata anche noi sulle nostre spalle e sulla nostra pelle, che dice che se entro... io ho imposto un budget, faccio un esempio, io voglio fare questo progetto, per fare questo progetto ho bisogno di un goal minimo, faccio un esempio, di 50.000 euro. E questa regola dice che se io non raggiungo quel budget minimo, quel goal minimo, entro le prime 24 ore, è molto probabile che il progetto non vada a buon fine. Quindi è molto immediata la risposta del... È molto immediata. Per questo tutta la fase più importante è proprio quella del pre-campagna, attraverso una costruzione di un database di email, di persone ovviamente targettizzate, interessate, attraverso promozioni sui social network, che ormai, soprattutto nell'ambito dell'orologeria, sono molto importanti perché sono social visivi, a differenza di Twitter magari. E tutto un lavoro che va fatto prima, va creato l'hype, l'interesse, perché ovviamente per arrivare a fare in modo che uno sia lì pronto con il click, deve aspettare quel giorno. Quindi c'è tutta una fase di creazione dell'aspettativa che è molto importante. Noi abbiamo lavorato molto, le difficoltà siamo riusciti a superarle, grazie comunque all'esperienza che c'era alla base, sulla comunicazione, sulle dinamiche del web. Abbiamo studiato molto anche le dinamiche di campagne precedenti, che avevano ben funzionato, cercando di capire quali erano, anche il perché hanno funzionato quelle, e invece in determinati altri casi non hanno funzionato. Quindi c'è un moltissimo lavoro prima, che purtroppo è nascosto, ma è assolutamente necessario per la riuscita di una campagna di crowdfunding. E devi essere anche, scusami, scusami, ho venuto un altro chiarimento. Devi essere anche già pronto con i fornitori, con il progetto vero, non solo col disegno. Allora, quello fa parte della serietà anche della proposta dell'azienda e del progetto. Nel senso che noi per scelta abbiamo fatto in modo di arrivare alla campagna con già il prototipo definitivo. Ma addirittura nel secondo caso eravamo abbastanza navigati ormai, tra virgolette, quindi avevamo già anticipato parte della produzione. Però assolutamente la trasparenza in un progetto di crowdfunding è importantissima. perché si chiede alle persone di investire in un progetto 4, 6, 8 mesi prima di riceverlo. Nel nostro caso si parlava anche di cifre che andavano dai 400 ai 600 euro, dipende dal caso. Avrei chiesto qualche dato a sostegno della tua attività. Allora, noi abbiamo fatto due campagne nel 2018, la prima nel 2021 a marzo di quest'anno con la seconda. Per dire, in quella di marzo di quest'anno dovremmo andare in consegna, adesso qui entro la fine mese, settembre, i primi di ottobre. Abbiamo avuto un ottimo riscontro sia con la prima che con la seconda. Nella prima abbiamo raggiunto il gol in 40 minuti, quindi vuol dire che abbiamo lavorato molto bene sull'aspettativa. e nella seconda in 4 ore, ma il gol era il doppio, quindi diciamo che è andata molto bene. Abbiamo avuto sostenitori da tutte le parti del mondo, anche quella è una cosa importante. Infatti tu dicevi prima, qui in Italia magari non ha ancora preso molto piede il crowdfunding. Da come pensiamo noi per vari motivi? Primo, che forse magari è probabilmente il primo motivo, perché qui in Italia dire a una persona, guarda dammi i soldi, intanto fra 6-7 mesi ti mando il prodotto, non è che siamo proprio famosi per questo tipo di dinamica. Un altro motivo chiave, a mio avviso, è che come in tanti fenomeni del web, vedi eBay, Amazon e altri casi, Kickstarter, quello che abbiamo utilizzato noi, e Indiegogo, che sono l'altro molto famoso, sono partiti 10-12 anni fa. E sul web partire, riuscire ad affermarsi anni prima, è un vantaggio incredibile. Perché anche noi stessi, in quanto magari fruitori di una piattaforma del genere, nel momento in cui sai che vai da quello lì che è un colosso, hai una quantità di offerta molto più ampia, rispetto magari a un portale che è nato, si deve fare le ossa, e ci mette più tempo per anche attirare in interesse. Poi c'è la lingua, che è un altro problema, visto che tanti portali di crowdfunding sono italiani, quindi sono circoscritti all'Italia. E un'altra cosa importante è che mentre Kickstarter e Indiegogo sono reward crowdfunding, cioè si basano sul voglio fare questo prodotto, mi dai soldi, ti arriva il prodotto scontato, con dinamiche che poi ogni singola azienda sceglie, in Italia si è affermato abbastanza l'equity crowdfunding, che vuol dire, sì, sostieni il mio progetto, ti do una piccola quota dell'azienda. Per certe cose magari può funzionare, ma nel caso dell'orologio o di oggetti, magari la gente vuole avere il pezzo in mano, nel senso vuole ricevere l'oggetto, è almeno appetibile magari. Questo è un po' quello che penso, riguardo il fatto che in Italia il crowdfunding non abbia attirato così tanto, magari come gli altri portali. Che succede se una volta ricevuti i fondi, non riesci però a produrre? Eh, sono guai. Devi restituire tutto dopo che hai già investito. Allora, secondo le regole di Kickstarter, se non sbaglio, non c'è questo obbligo. Non c'è l'obbligo di restituire, è un rischio, cioè la persona che fa un'offerta per un oggetto su Kickstarter, scorre un rischio. Ci sono stati casi anche di milioni di euro, di aziende che hanno incassato e non è mai stato spedito niente. Parlo di qualche anno fa, nel frattempo adesso magari le verifiche che vengono fatte le aziende in fase iniziale sono anche superiori, quindi è un po' più tutelata la persona. Però, secondo me, ne va tanto come prima della serietà della persona. Infatti, riuscire, altro aspetto importante, riuscire a presentarsi bene, perché alla fine è una pagina web in cui tu ti racconti, racconti il tuo progetto, di chi sei, e dopo una persona può essere soddisfatta lì, può andare a informarsi in altri canali, però alla fine è come tu trasmetti serenità nel sostenerti, come trasmetti la tua idea di azienda che fa la differenza e la trasparenza nel comunicare. Anche quella è una cosa molto importante, perché caratteristica appunto delle campagne è una comunicazione costante. Infatti noi, nei mesi scorsi, man mano che la campagna procede, aggiorniamo le persone su tutte le fasi di produzione, le casse sono state prodotte, i movimenti sono arrivati, tutte le varie fasi, proprio perché la persona si senta parte del progetto e anche rassicurata. Praticamente trasferisci il rischio di impresa sul cliente, dando... Lo condividi. Lo condividi, beh, perché c'è un investimento iniziale, ma decisamente più contenuto che se dovessi partire... Vi faccio un esempio, durante la campagna, la prima, io ho un'agenzia di comunicazione da vent'anni, quindi tutto quel lato anche di shooting fotografico, di video, è stato tutto gestito internamente, tra virgolette. Però abbiamo provato a contattare un'agenzia americana specializzata in questo tipo di servizi per, appunto, costruire la pagina e promuoverla. Ci avevano chiesto, vi dico il dato, 35 mila dollari più il 25% su ogni oggetto venduto. Allora la domanda che ti dici, beh, sono andato a fare il crowdfunding. Mi sembra tanto. Sì, è tanto, però per farti capire che ci sono tantissime aziende, mi sembra anche Alpina, che è un brand che non ha bisogno, insomma, di teoria, di fare crowdfunding, però a mio avviso hanno fatto una scelta strategica intelligente, importante, utilizzando la piattaforma per il secondo motivo che dicevo prima, cioè quello di marketing, cioè di propor, soprattutto anche perché il target di Kickstarter è abbastanza giovane, mi pare che quell'orologio che stavano rappresentando al momento fosse uno smartwatch e quindi andava a intercettare magari quel tipo di clientela, hanno fatto questa scelta, ma penso appunto per motivi di marketing e di andare di esposizione a quel tipo di clientela. E dicevi Nicola, avete fatto due campagne, qual è la visione per il futuro a medio e lungo termine? È sempre quella di muovervi a progetto, non è stato un crowdfunding per avviare l'azienda, è un crowdfunding che si ripete tutte le volte che voi avete un nuovo progetto? No, il nostro obiettivo è che, cioè, abbiamo la decisione finale è che dopo queste due campagne non passeremo ancora per il crowdfunding, primo perché effettivamente noi l'abbiamo utilizzato proprio per lo scopo suo iniziale e anche perché per fortuna, insomma, da quello abbiamo fatto nel mezzo anche un po' di ordine invece direttamente sul nostro sito senza passare per il crowdfunding, è andato molto bene anche quello e ci ha fatto capire che la strada, adesso siamo un po', abbiamo la possibilità di andare con le nostre gambine e ovviamente sempre con piccoli step e quello che era secondo me l'utilizzo e la funzionalità principale del crowdfunding di Kickstarter a noi è servita ma probabilmente si può fermare insomma a quella fase iniziale. Più difficile iniziare o il difficile arriva adesso? secondo me è sempre in salita però un po' col sorriso no, secondo me adesso ci muoveremo sempre penso attraverso o almeno per certe serie a preordine però gestito tutto internamente anche perché poi ci sono tutte le dinamiche fiscali che sono un po' particolari. Sono un po' degli Abraham-Louis Breguet del ventunesimo secolo perché la monza subscissione non lo so dire era il concetto insomma era pagato a rate prima esatto sì e restiamo nel mondo della tecnologia digitale perché abbiamo qui Antonio Carriero che è Chief Executive Officer Digital Chief Executive Officer in Breitling e vorremmo parlare di tutte queste tecnologie che si stanno diffondendo ormai di blockchain si parla ovunque in orologeria per il tracciamento del prodotto quindi di coppia di tutto visto che in tanti che cos'è la blockchain? ne parlo ma cos'è la blockchain? Allora non vorrei essere troppo dettagliato dal punto di vista tecnico comunque molto semplicemente utilizziamo la blockchain in Breitling come una specie di banca dati che è inespugnabile dove vengono conservate le informazioni uniche relative al prodotto che sono quelle legate alla produzione quindi con anche una visibilità su quella che è la value chain del prodotto dando questa completa trasparenza al cliente finale quindi legata anche al prodotto dal punto di vista tecnico ma anche per esempio Alessandro parlava dell'acciaio reciclato attraverso l'informazione possiamo il cliente sa che tipo di acciaio viene utilizzato per il prodotto anche perché l'informazione la recuperiamo dal nostro partner che tu l'ha citato Lang che lavora anche per Breitling quindi questa è un'informazione diciamo più legata al prodotto classicamente che viene registrata in un blocco di questa catena ma non soltanto questo ma anche tutte le trasformazioni che sono legate per esempio alla vendita del prodotto quindi questa tracciabilità è totale trasparenza che viene messa a disposizione legata anche ai servizi per esempio riparazioni tutte queste informazioni vengono una volta per sempre gestite in questo blocco della catena e quindi io per esempio come acquirente di un orologio pre-owned avrò la possibilità di sapere esattamente qual è la storia del prodotto storia che non può essere in nessun modo modificato quindi viene a tutti gli effetti un passaporto digitale dell'oggetto esattamente qualsiasi esso sia orologio in questo caso ma tecnicamente può essere estesa a qualsiasi esattamente quindi invece di avere un passaporto cartaceo classico quindi una carta di garanzia in plastica o più o meno in plastica riciclata chiaramente utilizziamo la tecnologia della blockchain per avere queste informazioni che sono una volta per sempre legate al prodotto al prodotto non al cliente questo è molto importante non c'è nessuna informazione sul cliente finale che è legata all'informazione del prodotto che viene così gestita nella blockchain quindi non c'è nessuna trasmissione di informazioni dall'utente dal cliente dall'utilizzatore al marchio in nessun modo come si mantiene il legame tra il prodotto e l'informazione all'antica? c'è un numero? sì, alla fine c'è sempre un numero di serie uno di referenze ma c'è anche un numero che è quello nel contesto blockchain c'è una specie di identificatore unico che è quello che lega il prodotto al blocco della blockchain in quanto tale ma è molto semplice come funziona ogni utente ogni cliente Brightling devo dire tutti gli orologi che oggi Brightling produce quindi dal mese di marzo di quest'anno hanno un gemello nella blockchain quindi tutti gli orologi di Brightling sono con un gemello blockchain e quindi e anche gli orologi di Brightling che non l'hanno ad oggi possono essere ricertificati e quindi avere esattamente l'accesso all'informazione si fa attraverso il sito internet di Brightling oppure attraverso un'application che in realtà la chiamiamo il portafoglio un wallet come quello che avete sul vostro iPhone o sul vostro Google phone quindi un wallet classico dove avete i vostri orologi ma non soltanto potete avere anche un giubbino Moncler Moncler utilizza la nostra stessa tecnologia quindi oppure un orologio presto di Panerai immaginando che siete anche voi dei collectors di orologi come molte altre persone quindi l'idea di avere un portafoglio questo wallet che è generico dove tutti i marchi che utilizzeranno la stessa tecnologia come diceva Alessandro anche in questo caso tutto quello che Brightling ha sviluppato con il nostro partner è a disposizione di tutti i marchi non c'è nessun segreto di stato in quello che abbiamo fatto non c'è niente di misterioso anzi il nostro interesse è che tutti la adottino in un modo o dell'altro e quindi c'è questa application che in realtà è un wallet anche perché per le persone che sono un po' attive nel mondo delle cryptocurrency è veramente un wallet di cryptocurrency c'è un vero equivalente in valore che è legato alla moneta virtuale che è quella che sostiene e appoggia tutto quello che stiamo facendo questa mese si chiama Aria20 il protocollo che utilizziamo nel contesto della blockchain si chiama AriaNi è una specie di bitcoin un po' più pulito nel senso che utilizziamo dal punto di vista della sustainability utilizziamo una catena nel mondo della blockchain che utilizza pochissima energia una catena secondaria quindi anche questa legata un po' al mondo green e tutto quello che è la supply dell'energia per mantenere questi server attivi che mi ha fatto una scelta che è in fase con l'approccio del marchio utilizzando questa catena quindi io come utente ho il mio wallet vedo il mio orologio vedo le informazioni e la cosa molto interessante non è che tutti i giorni qualcuno va a leggere va a vedersi queste informazioni non c'è molto interesse alla fine al di là del momento dell'acquisto o della vendita ma appunto al momento della vendita successiva del prodotto la transazione è gestita dalla blockchain per esempio se io volessi vendere questo top time a Dodi lei riceverebbe attraverso lo stesso meccanismo un codice QR da scannerizzare in italiano in italiano è sempre un po' complicato e quindi può così ricevere in modo diciamo garantito e sicuro il certificato quindi la transazione viene sopportata da un trasferimento unico del certificato dell'orologio e questa transazione genera un certo tipo di valore che viene poi associato a quello di questo wallet quindi in qualche maniera da garanzie anche in merito alla provenienza dell'oggetto che poi molto spesso in questo settore è quello che crea magari per molestità quando ci sono un certo tipo di transazioni o compravendite i volumi degli orologi che vengono venduti quelli che chiamiamo pre-owned watches o pre-loved watches sono molto importanti all'arrivo del mercato mondiale si parla di circa 25 miliardi di dollari di transazioni annue quindi non è poca roba al di là di marchi molto conosciuti che hanno una certa dinamica molto specifica in questo contesto questo viene anche agli altri marchi penso che una responsabilità del brand è anche proporre non soltanto l'orologio i servizi la dinamica del brand in modo completo al cliente ma anche un ecosistema che permetta poi al cliente di gestire la vita o la vita del suo orologio nel contesto delle sue scelte quindi questa che noi chiamiamo la trade ability la possibilità di venderlo e trasferire la proprietà è integrata in questo contesto ma non soltanto tipicamente se io dovessi perdere l'orologio attraverso lo stesso meccanismo posso dichiarare la perdita nel mio wallet che viene direttamente comunicata a un sistema di polizia cioè alla polizia questo avviene nel mercato americano quindi con anche l'avvertimento la comunicazione immediata l'assicurazione e questo viene veramente gestito a tutto all'interno di questo di questo certificato l'altra cosa molto importante per noi come brand è che ci permette di connettere il barchio con l'utente finale io non so a che porta questi orologi non sappiamo i nomi cioè poco importa se l'avete comprato in retail oppure in un multi multi brand store in un corner le informazioni in questo caso noi non lo sappiamo però io abbiamo la possibilità di accedere a questo wallet mandando una comunicazione specifica e personalizzata all'utente dell'orologio tipicamente non lo so cambio del braccialetto forse il momento di fare un servizio oppure ci sono degli orologi simili adesso a disposizione quello che upsell e crosssell ma in modo molto delicato cioè senza nessun approccio invasivo e questo perché abbiamo così la possibilità finalmente di poterci connettere con l'utente del prodotto quindi il proprietario dell'orologio senza dover passare da questa crisi psico emotiva nome cognome indirizzo mail e telefono psico emotiva sì dal punto diventa sempre molto più complicato a noi interessa semplicemente poter avere una relazione sana con tutti i clienti di Brighting che abbiano acquistato i nostri canali diretti oppure attraverso un rivenditore autorizzato e questo ci permette di avere un aggancio complementare che prima non avevamo è una domanda è una tecnologia costosa da implementare no internamente perché vediamo anche nascere dei consorzi per fornire servizio e quindi mi domando perché non non la implementa ogni marca per conto suo e invece sentono il bisogno di consorziarsi l'interesse del consorzio è di avere una norma comune se io ho un Panerai un Rolex Brightling non vorrei avere un wallet diverso per ogni mio orologio in modo che mi ritrovo con 20 wallet sul mio telefonino quindi fa molto senso nell'industria trovare certi accordi comuni come noi utilizziamo gli stessi fornitori per le casse possiamo utilizzare anche gli stessi fornitori dal punto di vista della tecnologia di base di cui abbiamo bisogno quindi il consorzio sviluppa la tecnologia di base nel contesto dell'uso ci sono due consorsi principali uno si chiama Aura e l'altro si chiama Ariani Aura è molto più legato diciamo all'up stream supply chain molta visibilità e tracciabilità sul prodotto in quanto tale però è una blockchain privata e che magari qualcuno può anche fare delle modifiche senza nessun controllo specifico Ariani è piuttosto un servizio di blockchain downstream partendo dal prodotto finito verso l'utente finale la combinazione delle due potrebbe essere una buona soluzione ma entrambe potrebbero coprire la value chain completa allora noi come Brightling abbiamo lavorato con Ariani sin dall'inizio quindi abbiamo dato una specie di impronta iniziale al modello basato sui bisogni di una marca come Brightling ma che in realtà non sono molto diverse da quella di Audemars Piguet di Panerai di Roger Duby che fanno tutti parte del consorzio ma anche di Moncler che quindi si ritrova un po' nella stessa approccia Aura che è stata diciamo così sviluppata nel contesto di LVMH con una partecipazione tardiva di Prada e di una parte di Richemont Richemont ha due piedi nei due consorzi quindi in modo che casomai come giocare alle roulette rosso e nero si vince sempre questo permette così di avere una vediamo un po' cosa succede con alcuni marchi del gruppo Richemont come vanno in questo contesto dico costa poco perché il consorzio non ha una fondazione non ha uno scopo diciamo commerciale quindi noi paghiamo una fisa annuale come panerà questo consorzio che è di 20.000 euro che ci permette di accedere alla tecnologia appunto in modo completamente trasparente poi lavoriamo con il consorzio per sviluppare le capacità complementari di cui abbiamo bisogno come industria orologiera e ogni orologio di Brightling che viene prodotto che quindi riceve un certificato il costo unitario del certificato è di circa 30 centesimi di euro sono dei prezzi che il COGS può gestire senza nessun problema quindi no stiamo parlando di investimenti che restano abbastanza relativamente bassi però per un valore aggiunto sia per il marchio che l'utente finale molto importante costa di più a stampare la carta di garanzia in plastica riciclata che avere il certificato blockchain attivato poi noi abbiamo fatto questa integrazione abbastanza larga con tutta la nostra dinamica digitale con i vari prodotti che stiamo sviluppando con tutti i sistemi di CRM e client healing che abbiamo attivato appunto per poter poi raggiungere gli utenti il che questo è poi un costo proprio al marchio ma anche qui restiamo in cifre assolutamente ragionevi il nostro marketing oggi è totalmente automatizzato e riesce a inviare questi messaggi personalizzati agli utenti agli proprietari di orologi che non si sono mai identificati con Brightling però utilizzano il wallet in modo volontario chiamo in causa Giovanni Varesi è davanti Cuorum Milano questa è una tecnologia che può portare i suoi benefici chiaramente al mondo del collezionismo e di conseguenza anche a voi lo sta facendo sicuramente molto più a rilento rispetto alle case orologiere contemporanee perché nel collezionismo c'è il problema della certificazione dell'originalità scusate Giovanni puoi avvicinare un po' il microfono così ti sentiamo meglio dicevo nel collezionismo abbiamo il problema nell'oggetto vintage di certificare che l'orologio sia originale al momento dell'emissione del certificato digitale di originalità quindi al momento l'impatto sulla nostra clientela che ha un'età media piuttosto alta è un attimino sotto le aspettative però credo che sia più o meno normale e soprattutto chi conosce i collezionisti di orologi sa che amano toccare la carta le garanzie i libretti quindi far digerire loro il concetto che un certificato di originalità può essere sostituito da un certificato digitale di originalità non è così banale diciamo che abbiamo introdotto questa possibilità acquistando un orologio io vedo Antonio che non è d'accordo no 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 non sono d'accordo nel senso si capisce benissimo per passare il microfono un secondo scusate mi rendo conto che in realtà le cose cambiano molto più rapidamente vent'anni fa mio senso avrebbe comprato un orologio a 5.000 euro online nessuno oggi il trade online degli orologi che sono di là di 5.000 euro rappresenta circa 7% dei volumi mondiali che non è poca roba cioè voglio dire che io avevo cioè io ho capelli grigi quindi non è che sono però quello che mi rendo conto è che non devo mai riflettere come il cliente che in realtà non conosco io sono un cliente molto specifico molto legato forse a certi modelli del passato che sono molto interessanti però la realtà è che questi cambiamenti sono molto più rapidi di quello che noi possiamo immaginare come marchio come marchio dico non come struttura per collezionisti abbiamo una responsabilità di capire quello che saranno i bisogni che poi diventeranno fondamentali fra 5-10 anni e non vogliamo sempre stare a rincorrere abbiamo rincorso tanti anni nella industria orologiaia quando si tratta di parlare del cliente o ingaggiare con il cliente però vogliamo aspettare un po' che il cliente arrivi così magari abbiamo un po' di tempo per anticipare alcune cose sì ripeto il problema è proprio pratico cioè chi si prende la responsabilità di fare un certificato digitale di un orologio da 11 milioni di euro se c'è qualcosa che non va nell'orologio barra nel certificato cosa succede dopo? Passatevi il microfono altrimenti non vorrei monopolizzare la discussione ma la responsabilità nel contesto di Brightling noi ci occupiamo di Brightling la certificazione la certificazione Brightling perché il prodotto viene certificato al momento della produzione cioè l'ultimo momento della produzione questo anche Alessandro lo conosce bene e quando chiudiamo facciamolo un boitmo chiudiamo l'orologio e viene così scritto l'engraving del incisione del serial number sull'orologio a quel momento solo a quel momento possiamo generare del certificato che voi noi lo risolviamo in questo modo essendo marchio voi non potete cioè avete una dinamica molto diversa se io mando in Brightling un orologio di 70 anni voi l'ho certificato originale al 100%? si se l'orologio è originale c'è un processo ben specifico per poterne validare l'integralità e quindi poi poterlo certificare e soltanto dopo averlo certificato possiamo emettere dopo averlo certificato possiamo emettere appunto questo passaporto digitale e così gestire nella blockchain chiaramente un orologio vintage Brightling degli anni 40 quindi a 70 anni per esempio un premier degli anni 40 non può essere semplicemente certificato da un rivenditore autorizzato deve per forza ritornare alla manifattura e quindi entra in un ciclo molto ben specifico ben definito che tra l'altro il cliente deve pagare per avere la certificazione definitiva bene lo fate in otto case questo i marchi di orologeria sono 12.000 c'è un problema perché purtroppo Rolex non lo fa per esempio Rolex non certifica alcun orologio emette un foglio dove dice che si prende carico dell'orologio per il service e basta e c'è scritto in grassetto non costituisce certificazione di originalità quelle sono politiche di ogni casa poi Rolex storicamente non ha mai tenuto un archivio Rolex ha un archivio anche abbastanza dettagliato che non voglia diffondere le informazioni dell'archivio è un altro discorso però Rolex ha tutto tutto quello che deve sapere anche degli inizi degli inizi non è il problema il problema è stato una parte di perdita di archivio attorno agli anni 70 ma è un buco di otto anni che si sta pian piano riempiendo con gli orologi che torna in assistenza però il problema è che i clienti che mi chiedono questa certificazione principalmente hanno un Rolex quindi non potendo attingere a una fonte ufficiale possiamo mettere la nostra esperienza al servizio del cliente fare mettere un certificato digitale che non viene riconosciuto da Rolex quindi ha una valenza diversa rispetto a quello che date voi per il prodotto nuovo e questo è un valore aggiunto però nel caso di alcuni orologi non è così semplice secondo me trovare chi ha la competenza odierna per stabilirne l'originalità alcuni orologi sono pezzi unici e quindi diventa problematico quando muore chi l'ha fatto nella casa andare a trovare chi conosce quel pezzo e io la vivo settimanalmente questa problematica diciamo che infatti siamo all'inizio cioè come stava dicendo Antonio loro iniziano adesso a certificare anche quelli d'epoca certo per voi è una parte importantissima del vostro del vostro lavoro il vintage è l'80% quindi per me è un problema consistente sono sensibile al problema della certificazione digitale la do come possibilità però devo fare io una certificazione la mia certificazione dopo domani può essere anche se comunque molte case ci hanno abilitato ufficialmente a fare valutazioni tecnico-commerciali e di originalità dei propri prodotti vintage domani potrebbe essere impugnata in sede del tribunale questo costituisce un problema per la mia azienda io non posso prendermi una responsabilità di certificare faccio un nome a caso un dato compact degli anni 50 con quadrante nero brillanti pezzo unico in acciaio chi l'ha mai visto? io posso solo analizzarlo tecnicamente che è quello che faccio faccio una prova metallurgica per quello che è possibile ovviamente non posso asportare pezzi metalli faccio un confronto grafico dell'oggetto al computer con un microscopio vado ad analizzare il materiale luminascente con un contatore Geiger vedo le emissioni una volta che tutto mi rientra in una serie di parametri che ho acquisito analizzando centinaia nel mio caso migliaia di orologi riesco a capire bene o male se il prodotto è stato ritoccato l'altro ieri pomeriggio o se è stato fatto effettivamente negli anni 50 non dico mai più toccato ma solamente revisionato all'occorrenza al bisogno diciamo che vorremmo che ci fosse la tracciatura per il vintage univoca disponibile per più o meno tutti perché sarebbe la fine delle clonazioni degli orologi la fine della falsificazione la fine delle alterazioni delle caratteristiche sarebbe veramente bello oggi non è ancora tra virgolette possibile perché a me viene richiesto il digital certificate se dico l'1% dei casi sto esagerando parlo anche di orologi da milioni diciamo che è un parametro che non ha ancora riscosso questo appeal e in ogni catalogo anche noi abbiamo una bella pagina dove offriamo questo servizio e su orologi di un certo valore lo offriamo anche gratis pagandolo noi purtroppo se uno non me lo chiede io non posso obbligarlo ad averlo siamo ancora agli inizi insomma per quanto riguarda il vintage ma parliamo un attimo io vorrei siccome siamo qui al vio vintage vorrei parlare proprio di questo momento d'oro del collezionismo e avere da te qualche dato su un trend che è iniziato all'incirca non l'altro ieri insomma allora sapevo di questa domanda in realtà che è la più facile sì insomma dipende come la approcciamo se parliamo della speculazione negli ultimi 3 4 5 anni è un conto se parliamo del trend collezionistico è partito credo negli anni 90 perché io mi ricordo che andavo alle aste di orologi con mio padre quando avevo 9-10 anni che è quando ho iniziato a collezionare perché ho iniziato a 12 e già allora vedevo in sala le liti come vedo oggi dall'altra parte del bancone una volta ero di là con mio padre e oggi vedo gli altri farle però di base non è un trend che si è mai interrotto o a differenza di altri beni collezionabili come i francobogli e le monete ha subito grossi cali perché l'orologio è un bene un po' particolare si presta ad essere collezionato ad essere utilizzato per esempio io amo solo macchine e orologi come collezionabili però purtroppo non posso utilizzare le mie macchine tutti i giorni dell'anno per motivi di lavoro di praticità e anche comunque di usabilità una macchina di 50 anni non è un'automobile da utilizzare giornalmente l'orologio salvo rari casi in cui metto come oggi un orologio moderno o contemporaneo posso utilizzarlo anche se ha 50-60 anni con le dovute attenzioni non ha nessun problema funziona esattamente come un orologio nuovo e non mi causa nessuna problematica di svalutazione anzi paradossalmente un orologio nuovo appena uscito alla fabbrica quando lo graffi la prima volta lo vedi un orologio che ha 50 anni qualche graffio se è stato utilizzato ce l'ha e quindi si presta molto ad essere un oggetto che porti con te non dico 24 ore al giorno però togli le ore di sonno e rimangono le altre e per quello che riguarda il trend degli ultimi anni ovviamente è esploso dovuto grazie prima di tutto alla situazione economica mondiale che anche col coronavirus ha subito cambiamenti consistenti secondariamente l'ingresso nel mercato dei player digitali chiamiamoli cioè coloro che hanno ottenuto grandi quantità di denaro dalla speculazione sulle criptovalute ha aiutato il settore e lo sta aiutando e lo aiuterà in futuro molto di più ma più di tutto alcune persone che hanno veramente una quantità di risparmi consistente ha deciso di diversificare probabilmente perché si vede su internet bombardata da risultati record nelle aste e quindi ha detto perché no alla fine l'orologio è un bene abbastanza democratico esiste per tutte le tasche da pochi euro ai milioni quindi accontenta più o meno tutti si può collezionare a qualunque livello e la cosa bella è che faccio due esempi giusto per capirsi un orologio che in valore assoluto ha avuto la rivalutazione più alta nella storia a parte il Dayton di Paul Newman però quello è un pezzo unico è un Patek 1518 che è il primo crono calendario perpetuo della storia in acciaio si è passati da un orologio che costava 1740 franchi all'epoca agli 11 milioni infatti di recente paradossalmente un Seiko il Monster che è un orologio super popolare io ricordo quando ero negoziante prima di entrare in casa d'aste si vendeva agli 80-90 euro oggi è un orologio che credo a meno di 250-300 non viene scambiato quindi paradossalmente anche lui ha ottenuto in 10 anni 15 anni una rivalutazione consistente in termini percentuali e di valore assoluto se uno avesse acquistato 1000 di quei 6 avrebbe ottenuto un guadagno paragonabile ad aver acquistato 1000 Rolex sì il punto è che ne devi acquistare 1000 ne basta uno per farne esempio uno non vuole rischiare troppo se tu acquisti un bene così popolare che ha un numero di pezzi venduti in mondo altissimo il tuo rischio diventa molto basso se acquisti un orologio da 11 milioni hai 7 persone che lo possono comprare al mondo ammettendo che 3 di queste 7 già ce l'hanno quindi ne restano 4 di possibilità se nessuno è interessato la perdita può essere veramente consistente stai parlando degli orologi come se fossero delle azioni gli orologi non sono delle azioni però insomma anche con i numeri che stai citando purtroppo questa è una deformazione professionale mia io cerco sempre di noi come azienda teniamo traccia dell'andamento prezzi degli orologi storico quindi da quando Antiquorum è stata fondata e questo è una cosa secondo me interessante perché ti dà anche possibilità di capire cosa può succedere domani basandoti su quello che è successo precedentemente ad esempio fino al 2007 c'era stata una speculazione che è molto simile a quella odierna con cifre completamente diverse chiaramente però il trend era questo tutti acquistavano frenesia totale era più sul vintage che sul moderno oggi il moderno ha acquisito una quota di mercato pazzesca poi nel 2008 è crollato il mondo io ricordo ero negoziante sono andato a dormire mi sono svegliato con esattamente il 50% del capitale investito perché gli orologi non solo valevano meno ma non li voleva più nessuno ora ovviamente come tutti siamo ripartiti cambiando oggetti nel giro di 4 anni è stato colmato il gap al quinto anno c'è stata una buona ripartenza e poi si è ricreata questa frenesia oggi non è uguale perché io non ho mai visto come nei moderni dei risultati come quelli fatti recentemente come il nautilus verde che avete messo all'asta voi allora il nautilus verde è un fenomeno particolare stiamo parlando di Pate Filippe parliamo di un orologio che già di per sé è oltre la cresta dell'onda è il traino di questa onda insieme a Royal Ocho de Marpigue e il verde in particolare ha subito una campagna mediatica automatica incredibile la dichiarazione di Stern in persona tutto il mondo cercava questo orologio quando va in asta il primo sigillato proveniente tra l'altro da negozio quindi proprio indiscutibile è ovvio che il primo fa il record del mondo poi a volte viene anche sorpassato in questo caso non sento di fare previsioni vi dico che potrebbe esserci neanche un altro in vendita tra poco però quello è un fenomeno particolare a sé non va secondo me né valutato né giudicato perché non stiamo parlando di un orologio che può essere messo in confronto con altri orologi è una cosa completamente particolare è un po' come Richard Mill giudicare Richard Mill quello che è successo e quello che succederà è rischioso perché è una casa particolare unica con caratteristiche uniche e Patè Filippo a suo modo è unica così come Royal ogni casa è unica anche Panerai è unica io amo Panerai per il concetto e mi piace soprattutto lo storico di Panerai quando c'erano i movimenti Angelus 8 giorni utilizzavano i calibri Corber Rolex Panerai è unica Panerai negli anni 90 ha subito una speculazione che non è simile però molto consistente veniva venduto ovunque poi cambiano i tempi cambiano le persone che collezionano e a volte cambiano anche i trend il bello dell'orologeria che è piuttosto ciclica oggi sta tornando l'orologio di dimensioni un pochino più modeste quando negli ultimi 5 anni nessuno mi ha mai chiesto un orologio da 34 mm adesso incominciano a riguardarli i crono per dire Movado che ha una storia orologiera importante con calibri di una qualità eccelsa i crono Movado sono stati fermi 8-9 anni erano invendibili oggi le persone di gusto i collezionisti che vanno oltre quello che c'è scritto sul quadrante vanno a ricercare anche canoni estetici che non sono magari propri di domani o di oggi o di ieri sono cose un pochino più retro che hanno il loro fascino e se uno va a guardare Movado loro parlavano di condivisione del produttore delle casse sappiamo bene che Movado per certi cronografi i calibri quelli che si chiamavano M90 ed M95 quindi il 2 e il 3 contatori avevano le casse fatte da Bourget che era lo stesso cassaio che ha dato la cassa al 1463 Patek quindi il tasti tondi di Patek infatti molti Movado venivano cannibalizzati per i tasti prendevano i tasti perché andavano bene sul Patek paradossalmente quello è un orologio che è preso a poche decine di migliaia decine di migliaia vuol dire che ha già un esemplare top costituisce una buona opportunità di avere un oggetto di gran classe di grande qualità a una cifra giusta oggi si parla di speculazione solo sul moderno per quello che io vedo nel vintage si paga la rarità la qualità e l'originalità ovviamente nel moderno è la moda però fa parte del gioco io l'ho vissuto tante volte quindi negli anni 90 non voglio annoiarvi negli anni 90 il Daytona automatico ricordo molto bene costava 3.750.000 lire circa si pagava 15 milioni per averlo subito nessuno gridava allo scandalo come oggi oggi costa 12.000 euro e si paga 30 non è la stessa cosa però oggi quello degli anni 90 costa 28.000 euro 30 come il ceramica quindi se uno l'avesse acquistato ai 3 milioni faceva l'affare della vita ma anche ai 15 milioni di lire oggi avrebbe quadruplicato il capitale in 25 anni non è male paradossalmente non sarebbe stato un brutto investimento comunque perché oggi si grida lo scandalo quindi perché oggi è giusto così in internet tutti gridano ognuno è libero di dire è legittimato a dire quello che pensa a scrivere quello che vuole quindi fa parte del gioco esatto anzi chi grida più forte si illude di avere ragione il problema qual è? io lo so bene purtroppo perché noi abbiamo attacchi pesantissimi su internet come nel caso del Nautilus nel caso del Nautilus verde ho ricevuto non sto esagerando 50 telefonate ma la storia allora del proprietario del Nautilus gli ho detto ascolta è semplicissimo è il figlio del padrone della boutique hanno tolto il marchio Pateca questa boutique per dispetto ha messo in asta l'orologio non c'è niente da nascondere è una persona fisica esistente viva e suo padre il padrone della boutique punto però tutti il nome è finto di fantasia perché verrà bannato ma chi se ne frega gli hanno tolto la concessionaria non gli interessa nulla se viene bannato la Pateca non comprerà mai più un Pateca questa persona però su internet ha fatto un clamore e a me questo clamore è servito a fare il ricordo del mondo infatti che parlino bene o male mi interessa molto poco la cosa più problematica oggi è che sono state spinte tante persone secondo me non idonee a collezionare orologi ad acquistarli a prezzi troppo elevati rispetto al reale valore questo non è una bella cosa perché nel momento in cui si crea una difficoltà sono le prime persone che li venderanno li metteranno sul mercato a qualunque cifra e questo potrebbe costituire un livellamento della tendenza attuale però sono abbastanza certo che su certi orologi che sono rari davvero anche moderni non è un cioè non costituirà mai un problema questa cosa su orologi più di massa potrebbe costituire un problema come lo ha costituito in passato sempre per parlare io parlo di Daytona non perché non mi piacciono gli altri marchi perché è l'orologio più speculato della storia parlando di Daytona il 116-520 quindi l'acciaio calibro 41-30 all'inizio si pagava il doppio del listino a fine produzione si trovava in concessionaria garantisco io perché sono entrato l'ho acquistato col 5% di sconto questo per far capire come può cambiare un trend in 4 anni ed è paradossale che 4 anni prima dovevi pagarlo 2, 3, 4 mila euro in più 4 anni dopo ti fanno lo sconto e ce l'hanno disponibile io l'ho visto in vetrina sono entrato ma è disponibile sì sì guardi che prezzo mi fa ho tolto il 5% ero incredulo cioè mi è successo una volta sola nella vita purtroppo e non è affatto prevedibile questo tipo di cosa non è che non è prevedibile purtroppo una previsione c'è però non è bello dirla perché sarebbe fuorviante diciamo che fino al 2024 sembra che la tendenza possa essere questa ma invece tornando proprio all'espressione non con i rialzi di oggi cioè nel senso la tendenza di gente che vuole acquistare orologi dovrebbe essere questa per quello che riguarda i prezzi i prezzi io credo abbiano raggiunto dei massimi relativi abbastanza importanti e non solo Rolex tutto il mondo dell'orologeria oggi vende molto molto bene cioè io ho venduto cose di marche che mai mi sarei aspettato di vendere sinceramente ho venduto a forte ai marmi durante l'asta quei lotti che si mettono a inizio catalogo per far scaldare un po' la gente orologini da 5-600 euro li ho venduti a più del prezzo di listino e sono ancora disponibili scontati in negozio ma comprano in negozio io li ho messi senza riserva ho detto sai ci sarà qualcuno che ha 200 euro fa l'affare della vita no li hanno pagati uno 770 l'altro 870 sotto il mio ufficio c'è il negozio che li vende scontati a molto meno un ufficiale Breitling per dire non era Breitling perdono sorry Hoyer però per dire chi è che quello è il fenomeno dell'euforia d'acquisto ed è venuto a ritirarseli personalmente in ufficio questa persona un ragazzo giovanissimo che mi fa io la prima volta che ho acquistato in asta sono felice se li ha guardati fa ma sono nuovi gli ho detto c'è scritto nel catalogo veramente era scritto che erano nuovi mi fa mi sono divertito tantissimo lì col computer ve lo dico ma poi davanti al computer sì questo qua era un estero però è venuto fino a Milano a ritirarsi e probabilmente aveva paura di arrivasse una scatola vuota non so però è stato bello vedere un ragazzo di avrà avuto 25 anni adesso non gli ho chiesto all'età però 25 anni così a occhio mi ha detto è il primo acquisto che faccio sono appassionato da poco ed è bello che crescano anche questi collezionisti che partono comunque dai 500 600 700 possono solo che salire infatti un'altra domanda era questa prima dicevi che comunque i vostri clienti hanno una certa età mentre con le aste online si è abbassata l'età media oppure ancora insomma incidere sulla media è dura con l'avvento diciamo dell'imprenditoria digitale quindi nuovi personaggi che guadagnano tanti soldi con età media molto bassa ovviamente si è abbassata l'età media del collezionismo i collezionisti a cui mi riferisco io è una cosa abbastanza ovvia nel senso è come le automobili chi compra orologi dai 100.000 a salire generalmente è una persona che non ha 18-19 anni e ha finito le scuole superiori è più o meno normale però sì stiamo vedendo un ingresso di paesi inaspettati paesi dove l'orologeria non è mai stato un cult assolutamente come l'Australia in Australia credo che fino a pochi anni fa parlare di orologi sarebbe stato ti guardano con la tavola da surf in spalla io conosco abbastanza bene quel paese oggi c'è una ripresa dall'Australia paesi del nord Africa e anche lì c'è stata una bella partecipazione in termini di percentuale e soprattutto quando mi scrivono su Instagram le persone vedo che sono persone giovani mentre una volta da per 5 anni fa comunque 4 anni fa mi scrivevano persone da over 40 adesso anche 25 27 28 anni si interessano magari a vintage che non è normale per una persona così giovane questo è buono ma questo significa anche ampliare ed aprire i cataloghi delle aste ad orologi a collezioni magari anche a marche che fino a un paio d'anni fa non erano magari contemplate per andare incontro come dicevi tu a un discorso anche anagrafico citavi le auto un ragazzo un trentenne che oggi magari vuole cominciare a investire in auto d'epoca guarda le cosiddette young timer difficilmente guarda le macchine degli anni 50 che potevano invece essere oggetto di interesse da parte di un altro genere di collezionista con un'altra anagrafica chiaramente certo sì sì è vero tutto quello che hai detto è esatto e comunque l'opportunità di aprire le porte a marchi differenti emergenti la responsabilità di questa cosa sta ai marchi non a noi faccio un esempio stupido fino a 15 anni fa se uno ti diceva cos'è Richard Mee niente perché non esisteva poi ha creato un orologio unico con delle caratteristiche che possono piacere o non piacere o clienti a cui fa impazzire e clienti a cui non piace lui si è conquistato l'Olimpo perché comunque lui fa prodotti di fascia altissima in pochissimo tempo perché ha creato un qualcosa di unico di diverso e io credo che l'unicità e le caratteristiche siano le uniche cose capaci di suscitare interesse e creare questa distinzione e far sì che vi sia una richiesta sul mercato internazionale la mia clientela non è la clientela normale che gira per negozi fa shopping cioè sono clienti che ti chiedono prima dell'asta centinaia di fotografie dell'oggetto vogliono smontato l'orologio per vedere il retro del quadrante sono clienti che cercano quell'oggetto e se non rispecchia le caratteristiche non lo comprano non lo vogliono alla metà del prezzo e non lo pagano un centesimo mentre invece sono disposti a pagarlo quattro volte il valore si rispecchia le caratteristiche quindi è una clientela un po' particolare per entrare nelle grazie di queste persone bisogna distinguersi io mi auguro che vi siano sempre più ripeto da un rapido conteggio sono più di 12.000 i marchi di orologi nella storia quindi mi auguro ne nascano ancora parecchie che diano soprattutto qualcosa di nuovo perché comunque l'orologio rispetta canoni più o meno simili poi se vogliamo parlare ripeto di Brethling e Panerai si sono sempre distinti perché il Navi Timer d'epoca comunque aveva quella funzione di ghiera girevole sotto vetro particolare Panerai è un orologio tecnico da immersione particolarissimo e quella è la chiave ti conquisti la tua nicchia e cerchi di farla crescere poi se vuoi fare troppe cose escludiamo Rolex chi ha tentato di fare troppe cose non è mai storicamente riuscito a portarle tutte a termine Odemar Piguet e Royal Oak Patek sembra strano perché Patek comunque fa dei super complicati pazzeschi però Patek è Nautilus oggi se oggi poco tempo fa ero a pranzo con l'amministratore delegato di una società importante il figlio diventa pazzo per il Nautilus e il padre lo insultava e gli diceva ma scusa ti do questo aveva un 59-70 al polso che è un crono perpetuo importante e lui ma papà quello non mi piace è rotondo non sa di vecchio gli fa io voglio il Nautilus i miei amici hanno il Nautilus e io ero lì che dicevo è un gusto può avere il suo gusto probabilmente gli piace complice anche il fatto che oggi è molto di moda però quell'orologio si distingue se prendi un Patek Krono e lo paragoni a un Vacheron cambia il marchio cambiano le caratteristiche probabilmente cambia anche la percezione ma alla fine due contatori due contatori carica manuale carica manuale cronografia diametro simile le anse sono simili cinturine in pelle sono due orologi che non hanno magari una personalità così forte Nautilus o lo ami o lo odi c'è poco da fare e quindi le case nuove emergenti se si distinguono hanno sicuramente la possibilità di ricavarsi una nicchia importante c'è spazio per tutti come ho detto l'orologio è molto democratico non è un bene al quale hai accesso solo dal milione in su puoi comprarlo a qualunque cifra scegli quello che ti piace di più e sicuramente troverai da quello a pila che esteticamente ti paga l'occhio a quello super complicato che costituisce un buon investimento se non investi in Swatch magari è meglio come è successo negli anni 90 ce lo ricordiamo un po' tutti è un altro discorso ce lo ricordiamo un po' tutti è stata una moda importante io vorrei concludere con delle domande se qualcuno ha qualche curiosità ho fatto il microfono faccio da valletta anche non mi sono neanche presentata prima spero che mi conosciate tutti dai sì potete mentuire dai giornali sulle sedie ah ok e invece secondo me è stato molto interessante quello di cui avete parlato prima perché io mi trovo in mezzo tra questi due antipodi in cui si parla di un certificato digitale e poi si parla di quella che è tutta la poesia che sta dietro il collezionismo secondo me è una cosa che ho potuto riscontrare anche in questi giorni se ci fosse un certificato ad esempio anche banalmente su tutte le assistenze che sono state fatte in un orologio ad esempio sostituzione del gioco sfere ritocco sul quadrante con un semplice codice a barre io potrei identificare qualsiasi laboratorio tecnico e magari aggiunge la voce che ha fatto io saprei il momento del mio acquisto che sia da un privato che sia da chiunque da un commerciante tutto ciò che è stato la storia dell'orologio dopodiché io penso a una cosa che mi è capitata vedendo uno spettacolo di magia e nello spettacolo di magia c'è una bambina che guarda lo spettacolo ci sono due tipi di spettatori il primo spettatore è quello che cerca di scoprire il trucco e il secondo spettatore è la bambina che guarda lo spettacolo affascinata dalla magia e secondo me la bambina è ciò che muove tuttora il mercato dell'orologeria ed è l'uomo che è cacciatore l'uomo che gli piace andare a pesca invece di andare al mercato a comprare il pesce nel senso quello che voglio dire è semplice andare al mercato a comprare il pesce grosso c'è gente che spende cento volte di più per forse tentare di prenderlo ma questa cosa non è detta e secondo me ciò che muove l'orologeria è questo fascino unico che sta dietro questa ricerca essere bravo a scoprire che l'ancetta è stata cambiata essere qua come oggi prima con Stefano a parlare di quadranti Paul Newman con cento grafiche diverse da anno in anno da Marco 1 Stefano Mazzarioni questo è il fascino che sta dietro quindi secondo me si è bellissimo come cosa nuova chiaramente un certificato usufruibile parlo degli estratti degli archivi eccetera ma secondo me questi anche certificati possono inflazionare tantissimo quello che è il trading di orologi ovvero chiunque diventa esperto poi quindi il gioco lo fa al prezzo e non è più il commerciante bravo o il collezionista bravo che scopre tutte le magie tutti i trucchi dietro che ti può determinare la rarità e il prezzo di un orologio quindi quello che io dico è che che potrebbe danneggiare la magia secondo me potrebbe tanto danneggiare il mercato dell'orologeria perché chiunque io vedo anche nel mestiere che faccio c'è gente che non ha passione non ha mostro la passione ma fa trading e il trading è la morte di tutti i marchi che uccide il moderno uccide il vintage perché non è data a competenza è data da un numero che si evolve cresce o scende ma solo quello e a me spaventa molto appunto questo avvenire di tutti questi dati che ci sono vediamo chi ha voglia di rispondere chi risponde Antonio Giovanni non so sul digitale prima parte prima parte Antonio volentieri allora sul digitale in qualche parola sì sarebbe interessante se ci fosse una specie di norma comune che venga rispettata sia dei marchi che dei centri di riparazione autorizzati una specie di classificazione di ogni tipo di intervento che venga poi così utilizzata e ripresa nella maggior parte dei marchi e dal punto di vista probabilmente tecnico a volte questo succede già senza che lo si sappia perché utilizziamo più o meno gli stessi software nei vari marchi e anche negli atelier di riparazione quindi poi si tratta più di una modalità di esporere questi tipi di elementi in una struttura poco importa sia sopportato oppure no dalla blockchain volevo aggiungere visto che mi è piaciuta molto la metafora della bambina che si gode lo spettacolo il cliente sta cambiando il mondo del lusso dell'orloggeria è cambiato adesso stiamo vivendo si se da una parte la speculazione che comunque a cicli stiamo vivendo questa speculazione però c'è un mercato di speculazione sul vintage anche sul moderno ma quello che poi interessa poi brand sì per noi è super quando presentiamo l'orloggio in bronzo e lo lancio a 9000 euro e lo vedo che in Nasta si vede a 20.000 euro 25.000 euro sono contentissimo ma anche quando sviluppo la collezione Panerai dove partiamo da un orloggio che nasce da un bisogno militare subacqueo di grandi dimensioni è chiaro che non parlerei di generalismo però c'è anche siamo in una fase di democratizzazione del brand dove comunque se vediamo che il cliente adesso vuole un orologio anche di più piccole dimensioni perché non è che possiamo sviluppare tutti i orologi di una taglia di 47 mm perché era l'orologio del palombaro degli anni 40 degli anni 50 quindi noi come brand siamo contenti quando vediamo gli orologi ai polsi perché poi la speculazione ok c'è chi lo mette la cassetta di sicurezza lo vuole rivendere la special edition che sappiamo gli orologi a tiratura limitata hanno un grandissimo successo e sono già prevenduti ancora prima il subi la baidi produrremo 30 pezzi abbiamo centinaia e centinaia di domande ok ciao io quell'orologio so di venderlo ma io sono contento quando sviluppo delle collezioni che vanno al polso di clienti e mi danno l'opportunità anche di attrarre nuovi clienti quindi non sempre gli stessi clienti perché poi ogni brand ha collezionisti che hanno x orologi x orologi panerai come dicevamo prima perché lavoriamo per blockchain sulla stessa piattaforma perché il wallet di cui parlava Antonio io cliente ho panerai ho bright ho x orologi ho tutto lo stesso wallet però noi siamo contenti quando attraiamo nuovi clienti e vediamo gli orologi ai polsi dei clienti i clienti sono contenti e quindi da qui c'è la democratizzazione del lusso perché i clienti stanno cambiando le nuove generazioni rappresentano una percentuale sempre maggiore i clienti è chiaro che parlando giustamente di vintage di orologi di una certa cifra è chiaro che l'età media è più alta ma per brand come panerai ma immagino sia lo stesso per brightling cioè l'età media si sta abbassando incredibilmente e per noi vedere un cliente asiatico americano comunque new business di 25 anni che compra orologi anche da 100.000 euro cioè non è una cosa che magari 10 anni fa poteva sembrare strana invece al giorno d'oggi sembra è una cosa normalissima a livello della democratizzazione dell'accesso all'orologio o di un certo tipo di orologio quello che abbiamo attivato qualche mese fa è questo watch as a service cioè pagando una quota fissa mensile il cliente brightling non acquista l'orologio ma acquista il diritto di avere tre orologi in rotazione questo non siamo stati i primi a farlo nel mondo del lusso perché alcuni marchi di automobili lo fanno da molto tempo come Porsche c'è Nissan negli Stati Uniti ma anche in Europa Mercedes lo fa in Germania quindi non è più l'accesso al prodotto in quanto tale con l'acquisto ma l'accesso all'esperienza legato ad avere più prodotti in rotazione quindi stiamo cercando di calibrare questo nuovo servizio non è un leasing non è un prepaid è veramente una rotazione di tre orologi come potete farlo con una subscription classica che vi io non lo so lo fate col vino con l'olio d'oliva con la verdura fresca e lo facciamo con gli orologi non sto paragonando chiaramente non è lo stesso tipo di prodotto ma è lo stesso tipo di abitudine e la cosa importante nel nostro contesto sia capire il cliente ma il cliente le sue abitudini stanno cambiando non grazie alla nicchia dell'orologeria oppure del lusso in quanto tale cambiano in modo globale e noi come Marche abbiamo una certa responsabilità di doverlo capire e poi dobbiamo interpretarlo noi cerchiamo di farlo in questo modo ma ci sono tantissime altre possibilità il servizio non è ancora stato attivato in Italia lo attiveremo a partire dal prossimo anno comunque negli Stati Uniti è già attivo e quello che ci ha stupito è stato un successo molto forte abbiamo un pool di orologi per queste rotation che poi alla fine sono degli orologi pre-owned che verranno comunque venduti in un secondo tempo rivenduti in un secondo tempo abbiamo circa 3.000 utenti in 4 mesi che è molto importante come primo lancio di questo tipo di servizio Giovanni ti passa se io ho capito esattamente a cosa lo devi vabbè diciamo che uno spunto di riflessione potrebbe essere un orologio ha avuto e cambiate le sfere come tu hai menzionato è stato certificato questo cambio sfere il dilemma è lo rimetto nelle condizioni d'origine lo lascio con le sfere più moderne perché è certificato così questo dal mio punto di vista io personalmente parlo per me non mi sono mai posto questo problema a questi limiti se io ho un orologio che è bello sano originale quindi per me originale vuol dire numeri in tons immacolati movimento non alterato quadrante originale se è stato cambiato l'inserto a un submariner del 62 non ne faccio una tragedia se non sopporto di vederlo con l'inserto sbagliato qualunque certificazione io possa avere acquisto l'inserto corretto me lo installo mi guardo l'orologio corretto nel momento della rivendita tu presenti l'orologio come da certificato con in aggiunta le parti purtroppo e questo è una cosa è un problema che noi fronteggiamo giornalmente ci chiedono di rimuovere i numeri dai database delle aste perché dicono io ho acquistato questo orologio avevo un graffio sul quadrante l'ho fatto sistemare non posso più metterlo in aste perché magari è un Patek dove non puoi diciamo con Patek hai numero di cassa movimento incrociati con l'estratto se l'orologio è uscito doveva avere il quadrante nero è uscito col quadrante bianco tu adesso hai trovato il quadrante nero tutti i database lo mostrano ci sono dei motori di ricerca appositi ti fanno vedere com'era l'orologio magari sette anni fa in asta di un competitor da Sotebi oggi lo trovi d'anticuoro un corretto subito ah è stato cambiato il quadrante si è stato acquistato un quadrante coerente con la dichiarazione dell'estratto archivio ed è stato rimesso in condizione di originalità io non ci vedo un dramma e come restauro se io ho una magnifica Ferrari 250 gt lusso e un pirla mi graffio una fiancata non la rivernicio perché poi la vernice non è più originale non cambio il radiatore perché perde acqua gli metto il turafalle perché poi non è più radiatore d'origine una macchina di 50 anni è normale che abbia un 20% di parti sostituite se è stata utilizzata almeno quindi come non è una tragedia uno scandalo far ricoprire un sedile se qualcuno qua in sala ha una Ferrari o una Maserati degli anni 80 sa benissimo che la pelle di quegli interni è come la pelle delle scatole pateche all'interno la lasci dieci anni in cassetta la apri si sgretola quindi è cartone praticamente non è un dilemma cioè non è un problema rifarla non è che la macchina per me perde valore documenti l'intervento nel caso dell'orologio quindi l'orologio io l'ho acquistato con sfere di fornitura lunetta di fornitura ho trovato sfere lunetta ho rimesso l'orologio in condizioni originali e queste sono le parti di fornitura punto ma non ti fa paura che nel tuo e nel nostro futuro magari un certificato che mi dice tutto quello che è stato fatto ci tolga il mestiere? no no assolutamente non ti può togliere il mestiere ti spiego anche il motivo mi riallaccio anche all'altro pezzo della risposta che hai dato il fatto di trattare gli orologi come azioni prendiamo il Daytona verde quello in oro allora io ho guardato proprio in questi giorni ho fatto il mio solito ho un software che abbiamo fatto sviluppare nella mia società per analizzare l'andamento prezzi ho visto un andamento così casualmente ricalca quelle di un'azione che ultimamente ha avuto gli stessi sbalzi era arrivato a 100.000 è crollato a 54 adesso è già risalito a 68 stavo guardando e dicevo ti svegli la mattina devi aver paura se ne hai tre devi aver paura perché qua non puoi andare a dormire tranquillo veramente questo problema su questo genere di orologi è proprio perché fanno questo lavoro persone non del mestiere quindi queste persone potevano speculare scambiando qualunque cosa che fosse oro bitcoin azioni non avrebbero fatto per passione l'avrebbero fatto per mero guadagno queste persone costituiscono purtroppo una realtà forte perché nel mercato moderno come ben sapete ci sono le chat di commercianti dove si scambiano questi orologi mi credete se vi dico che noi non abbiamo visto un calo di vendita e di consegne di orologi neanche dello 0,1% da quando esistono le chat tutti dicevano tra l'altro mi sa che fanno anche delle aste ho visto su whatsapp da hong kong a me non è cambiato nulla perché perché antiquorum è in dieci paesi se tu vuoi un orologio da noi lo vieni a ritirare nel mio ufficio l'hai pagato vieni non ti piace non lo ritiri ti rifaccio il bonifico e non c'è nessun tipo di problema vuoi un mio parere sull'orologio è gratuito e te lo do a prescindere perché se no non lo metto in asta certo io non posso analizzare 500 orologi in un mese perché la mia giornata ha 24 ore e tra l'altro lavoro anche ogni tanto quindi non posso garantirti che tutto è stato controllato ma noi ci siamo sempre nel caso ci sia un problema il commerciante serio c'è lo speculatore usa i moderni perché non sa niente di vintage io quando ritirano i vintage o devono ritirare i vintage mi scrivono sai cosa rispondo perdonami sai bene che io non posso fare valutare l'originalità di oggetti nel caso in cui non vengano consegnati per le mie aste questo perché non sai nulla di vintage non lo fare lascia che il collezionismo prenda la sua strada vuoi giocare a fare il trader di moderni fallo non con me io i moderni non li metto in asta in forte di marmi avevo due moderni tre forse contemporanei non li voglio non mi interessa loro li vendono li fanno e li vendono io mi occupo di quello che non è più in vendita e se fosse per me cioè il mio catalogo partirebbe dall'86 ad andare indietro ci sarebbe la freccia 1986 con la freccia verso il basso perché non c'è bisogno di me in quel settore quindi non ho alcuna paura e nel vintage la certificazione io la apprezzo cioè se tu mi dici guarda che l'orologio è stato non so un quadrante indelebile in Patek l'hanno ripristinato perché la stampa non era bellissima a me non mi frega niente se l'hanno fatto in Patek è fatto a regola d'arte è certificato da Patek non è un problema non è un problema mio se uno si illude che tutti i 15-18 non siano mai stati ristampati quelli che dichiarano mai ristampati solo perché indelebile vengono sempre uguali fino a 2-3 lavaggi è un illuso cioè quello è un orologio che non è impermeabile l'umidità in 10-15-20 anni ha fatto il suo corso per lui come per tutti gli altri che fosse in una cassetta in un cassetto o al polso certo al polso alle baleari lo faceva prima al lavoro in una cassetta di sicurezza se lo metti in una busta sigillata col desilica gel dentro ci mette un po' più di tempo purtroppo l'invecchiamento la patina il vintage fa parte della storia le auto invecchiano noi invecchiamo gli orologi invecchiano le case invecchiano non c'è nulla forse un blocco d'oro si ossida se tu hai dei blocchi d'oro si ossidano come d'argento l'invecchiamento fa parte del gioco che poi il fascino è lì dovrebbe essere quello il fascino è vintage quando adesso anche purtroppo le ossidazioni riescono a riprodurre in maniera artificiale ma quando vedo una bella ossidazione genuina dell'orologio quando mi viene la persona che mi dice è mancato mio padre questo orologio era in cassetta da 25 anni trovo queste patine quella è la prova migliore che l'orologio era davvero in cassetta da 25 anni il bello è che tutti guardano la cassa sulla cassa è facile ossidarla guarda il quadrante se si è ossidata la cassa un orologio così che è stato fermo 25 anni anche negli indici mostra segne di ossidazione e in altre parti è lì il bello del vintage hai delle sfumature che nel moderno non puoi avere perché ovviamente è nuovo ed è perfetto e così deve essere vuoi l'orologio lo usare tutti i giorni certo il moderno è la scelta più scontata e anche la migliore probabilmente però a livello collezionistico ripeto a chi fa il commerciante in maniera seria io non mi sento di rassicurare nessuno perché non sono nessuno per rassicurare colleghi però d'altro canto non ho certo paura della digitalizzazione dell'originalità di un prodotto è l'ultimo delle mie problematiche io ho altre problematiche quella per oggi non mi tocca quindi siamo concludiamo sono vecchi però le novità le apprezzano vorrei concludere con il fatto che comunque abbiamo parlato di temi che effettivamente faranno parte del futuro dell'orologeria cioè anche il collezionismo avrà un'evoluzione che non è minata dall'arrivo di nuove tecnologie io vorrei ringraziarvi per essere stati qui con noi mi dispiace di interrompere abbiamo la prossima conferenza che è in calza e anzi mi scuso perché si è sentito tutto quello che ho detto ma non solo ancora non ho l'esperienza di Alberto Angela che è il mio preferito e niente ringrazio allora Antonio Carriero Alessandro Ficarelli Giovanni Varesi e Nicola Callegaro per essere stati con noi oggi grazie davvero grazie a voi